Al centro dell'attenzione di questa tredicesima edizione del Premio Medicina Abruzzo il personale medico e paramedico delle quattro ASL abruzzesi che si sono segnalati nel periodo della pandemia. Con noi il professor Stupia è un momento importante. Intanto, che ne pensa di questa iniziativa? È un'iniziativa importante perché ci ricorda una cosa che la Regione Abruzzo ha risposto in maniera eccellente alla pandemia ha dato un'importante dimostrazione di compattezza, di professionalità e come tutti sanno siamo risultati i primi in Italia per la capacità di sequenziamento del genoma virale e insomma direi che è una risposta importante. L'iniziativa ci sta anche per ricordare le tante persone che non ce l'hanno fatta e non stiamo chiaramente celebrando una vittoria perché ancora la guerra non è finita. Stiamo però celebrando la enorme capacità di sacrificio di una regione, degli operatori sanitari, della popolazione e quindi è un momento di ricordo anche di tutto quello che c'è stato fino adesso che era importante. Ma lei si sente di dire che siamo davvero usciti dal tunnel della paura? Vediamo la luce. Ancora diciamo se me lo richiede a settembre-ottobre potrà essere più preciso perché non dimentichiamo che l'anno scorso di questi tempi eravamo già convinti di esserne usciti e poi purtroppo non è stato così. Certo quest'anno ci sono i vaccini e c'è una grande differenza però la sfera di cristallo non ce n'è nessuno. Manteniamo la guardia alta perché assolutamente non dobbiamo compiere l'errore di pensare che è veramente tutto finito. Ma la luce in fondo al tunnel quella sì, quella sì.